Allora Pippo, quarto mondiale, quarta sorpresa, sei arrivato, ti vedo anche abbastanza stanco, devo essere sincero. È stata una bella settimana, nel senso, quattro giorni, tre giorni di corsa e erano belli intensi, nel senso, non tanto di lunghezza ma di intensità. Però siete stati bravi, col quartetto siete arrivati lì a giocarvi, io dico il record del mondo, perché poi eravate a tre decimi con la Danimarca che poi l'ha migliorato, avete fatto un grande podio e tu obiettivamente sei stato inaffrontabile per tutto il torneo dell'inseguimento. Record del mondo in qualifica, poi nella finale addirittura ti sei tolto lo sfizio di alzare le braccia quasi sull'ultima curva, direi ormai è mio. No, i danesi non sono più così lontani partendo dal quartetto perché è forse la cosa più importante. Abbiamo visto che possiamo far bene, possiamo puntare in alto a Tokyo e senza una scia loro sono lì. D'altro nel loro record l'hanno fatto riprendendo la squadra avversaria, quindi abbiamo anche noi in nostro margine di miglioramento, cercheremo di arrivare tutti il più pronti possibile per l'appuntamento. Sul mio individuale ormai era uno sfizio portato a casa il poker, ce l'ho fatta e anche sul tempo, sulla finale non ci pensavo più, ho provato ad abbassarlo visto che sono riuscito ma oltre non sapevo che era quasi impossibile farlo. O meglio, con la preparazione fatta non era troppo specifica per l'individuale ma era più per il quartetto, quindi quando non hai del recupero tra delle tirate è duro arrivare sotto questo muro dei quattro. Però dai, non siamo lontani e magari un futuro ci proveremo. Anche perché tutti ormai te lo pronosticano questo 3 a 59. Tutti pensano che sia come andare fuori a mangiare una brioche e bere un cappuccino, quindi non è così. Però dai, sono felice e vediamo quando farlo. Adesso la strada, la tirano adriatico, poi ci sarà l'esordio del Giro d'Italia, le Olimpiadi, i mondiali, quindi insomma la stagione è appena cominciata. Il podio in Argentina, campionato del mondo, con il record del mondo, direi neanche male. No, no, quest'anno siamo partiti bene, adesso vediamo appunto se l'organizzazione mondiale del ciclismo lascerà l'ok per correre appunto a Tirreno e vediamo quale sarà il calendario. Poi per il Giro speriamo che la squadra mi dia l'ok il più presto possibile e siamo al via. L'ultima cosa Pippo, ogni anno è un'emozione nuova, è difficile fare una classifica, ma il momento più bello di questo ultimo secondo te qual è stato? Ma forse il record nostro italiano, il quartetto più che del mio individuale.